3, 1, 2, 3 Ehi Che coccolosi Che sono merita Oh c'è Pepsi Ciao Pepsi Vai commentiamo insieme Va bene 3, 2, 1, via Quanto cazzo sono veloci Ok Ok allora Termo subito in Buster perché crede per qualcosa Non conosce la potenza Non conosce la potenza Oh mio Dio è vero Termo ha le tech Situazione abbastanza ill Situazione abbastanza ill Situazione abbastanza ill Neir solite stronzate di Shulk Cerca un up smash Troppo avido Entra in speed Oh la al pivo O meglio Cerca la spike Molto veloce Prova un back smash Molto veloce Stop Pazzo Un back air Buono Entra in smash Vediamo vediamo Un altro back air Però con la southpaw Esplode Esplode Un shield Oddio Fortissimo Nooo Rar back air Rar back air Oh E' la Molto buono sto tenno oggi Molto buono sto tenno oggi Molto buono sto tenno oggi Imo autofoot Vediamo Oh Continua a tenerlo fuori dall'area Non riesce a far entrare quello E quindi non riesce ad ammogliarlo Ma errore gravissimo C'è un cazzo di pagliaccio Stoppi Fa il maiale Che cazzo fa Tira gli smash a casa E li prende Cosa fai? Era dall'altra parte Vuole il tutto per tutto Vuole farsi randomizzare Ma che cazzo Fox Si va bene Si va bene Fox Cambecchino Stoppi vuole fare il corpo Oh mio dio Lo tiene fuori E la Bravissimo Sei veramente forte Stoppi Allora vediamo E la 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 vediamo Marco In bocca Ma non ci arriva così Ma stavi saltando Come è fatto arrivare Non l'ho seguito, vanno su smash Di nuovo Molto avvantaggiato Perché a destra Cioè la blast zone è più corta Rispetto che a sinistra Quindi Paul se lo lancia di là Lo autismo Ora come ora Paul riesce ad entrare Semplicemente grappando Ha capito la chiave Grav fair Ha downloadato Cerca la vidità È già in kill percent Al bordo Vediamo se riesce a far la cosa giusta Che sarebbe tenere il controllo dello stage Molto bravo Un sacco di perfect shield Vedi Ma fa bene Ma dai Era accanto Oh molto avanti Nooo Come vuole? Poteva tricare niente Però non è forte Certo Cerca di E spenerci E ragga Morto la piante Cazzo Troppo Le 8box autistiche del Perché il Mi non ha cose per gebloccare Quindi lui cerca di fare un 50-50 per farglionare grab Quindi fargli danni gratis praticamente Cerca la rid Sto gioco va troppo veloce per noi E' la madonna con quali hitbox Vuole un netto vantaggio Troppi mix up ho aspettato di più Sto a pressarlo con il Dineo E muore Pagniaccio One frame vai Hai tanto giorno risultato Quella mostra lì fa uno Che schifo Ah che bello Le combo con la chiave Le combo con la chiave Hai raggiunto su un capo La chiave Best of best of five Non lo so Puole top 8 Ok top 8 quindi best of five E se hai ancora il winner Porca puttà di vertiti Ti randomizza con una gel Ci sono passati Eh va bene Stoppyswitch ho? Stoppyswitch ho? Stoppysarebbe tenue comunque Come unicinenti Ehm Lussina Si ha usato lussina Non lo so Secondo me stava bene con il pool Più che altro aveva sbagliato lo stile Nel secondo gioco Che ha cercato più di colpirlo Che di tenerlo alla larga Infatti ancora vedi cerca di andare addosso E questo beneficia più a Paul Che a lui perché Poi è un personaggio da close range Da attacchi vicini Quindi si si Ten ma c'è una cazzo di spada Usala Sperando che dopo questo coaching Legale Abbia capito qualcosa Come scende dal commento a te Couching dal commento a te Oddio rischio C'è un po' di Che a lui Ehm Che a te Tocco ne tiene bene qua Ehm La situazione abbastanza iven e lo punisce Molto bravo Nooo, non lo ha sottato che cazzo? randomizzato gli stoffi continuano ad essere aggressivi però ha abbastanza senso perchè no scherzavo adesso? no niente autismo cerca di ridare uno senza sotto bravo ok cerca di tenerlo a distanza con i fair with left smash molto bravo time roll cerca oh mio dio so close molto buono però non basta oh mio dio bravissimo stop ok 2 a 1 2 a 1 banna Laila terrore 12 12 a 1 vediamo vediamo nooo alla fine il counterpick si è rivelato buono visto? molto buono sì 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 ma poi diciamo che lo fermo perché? ancora 1 sì almeno vuoi fare meno non lo so secondo me contro il mi il shul per certi verso è migliore perché lo tiene più lontano questo c'è un sbattamento lunghissimo però l'usina è più veloce in termini di train data quindi è più più safe esatto vedi giù adesso vuole fare gli shul break però effettivamente lui cerca di cioè fa il footstool e poi di più esatto esatto ah va bene ok a me pensavo luccasse anche quelli che non so come sono sempre il nero nooo non l'ho perché non ce l'ho assoluto è tipo il nero di granny ah ok ok però se avesse delle delle footstool combo sarebbe davvero stupido magari a 0% dovrebbe avere qualcosa tipo che c'ha 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 il deir magari cioè il ddd ha il fair si ha il fair che locca ha il fair che locca magari il mio a basso percentuale c'ha il downale però non credo perché altrimenti può lo fare eh non so se no no non riesce a fare fast oh cerca il contacto bella bella molto buono aspettate cerca di distanziarsi oh rischia fortissimo nooo nooo ok lo sta pettando per un po' fare alfa eh si 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 passa dietro molto buono il side b come dire il come dire Ftilt cioè pivot Ftilt hit to upfash e tipo Fox eh non lo so forse però dipende anche dalle percentuali perchè c'è altra non è successo eh sì ma no poi Fox rispetto al mio è molto più veloce Sarebbe da provare Sarebbe da provare Sì 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 secondo me ma poi anche più che altro perchè l'hitbox del fair del final score come quello di Forrest beh ecco poi intanto può essere che ne so un una positiva ma se non decca stop che fa una tonica abbastanza improvvisata con il side b si si becca sempre quella cerca di edgardarlo si becca sempre quella si dopo il eh sì infatti no oh lì poteva fare poteva fare poteva fargli la B e forse l'avrebbe pure però non credo perchè era in basso vediamo situazione abbastanza even entrambi sono teoricamente in kill for sent anche se paul sarebbe in vantaggio perchè è a rubare una roba luce si no adesso mi si vede iare iare per mai asciagare c'è Luca c'è Luca Rossi molto buona al bengarossi paul e stoppi sta giocando è la bravissimo stoppi fai skill suca paul paul ma ho to upset e schifo di stadio e prima ti fai pistoccare da me e poi ti fai un'altra e poi ti fai scopare vergogna Grazie a tutti.